Tutto arrivò insieme all'improvviso. La musica, i balli, le droghe, i locali, la città. Avevo avuto ragione. Manchester come la Firenze rinascimentale. Mike Pickering aveva ragione. Non hai bisogno di band in un locale. Sean Ryder aveva ragione. I New Order avevano ragione. Arrivamo tutti assieme. Tutti venivano all'assienda. Era la nostra cattedrale. Stanno applaudendo il DJ. Non la musica, non il musicista, non l'autore, ma il mezzo. È così. La nascita della cultura rave. La beatificazione del ritmo. L'età della dance. Questo è il momento in cui anche l'uomo bianco inizia a ballare. Grazie. 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 Grazie.